Alessandro Volta nasce a Como il 18 febbraio del 1745. 1763. Ha solo 18 anni quando inizia l'intensa corrispondenza con gli scienziati dell'epoca. 1769. Ha 24 anni, scrive la sua prima memoria intitolata De via tractiva ignis elettrici, ac fenomenis independentibus. 1774. Nel 1774 è nominato reggente delle scuole pubbliche di Como e in seguito professore di fisica sperimentale. Nel 1778 è chiamato a tenere la cattedra di fisica sperimentale all'Università di Pavia. Nel 1777 parte per il suo primo viaggio all'estero in Svizzera. Nel 1781 partirà di nuovo per un lungo viaggio attraverso l'Europa con lo scopo di reperire nuova strumentazione e di avvicinare gli scienziati di quegli stati. Negli anni Ottanta si è già affermato come uno dei più illustri scienziati dell'epoca. Ormai cinquantenne, nel 1794, sposa donna Teresa Peregrini, dalla quale avrà tre figli. 1799. Inventa la pila. Ne dà comunicazione ufficiale al presidente della Società Reale di Londra il 20 marzo del 1800. Nel 1809 Napoleone lo nomina senatore del Regno d'Italia e nel 1814 in un tumulto politico a Milano può a stento uscire salvo dall'aula senatoriale. Si ritira vita privata nel 1819 e muore a Como il 5 marzo del 1827 all'età di 82 anni.